Introduzione al canto gregoriano, un programma a cura di Giacomo Baroffio. Un cordiale benvenuto all'ascolto da parte di Giacomo Baroffio. Abbiamo visto come il gregoriano si adatta alla liturgia e diventa l'espressione forte dei contenuti che la parola di Dio trasmette all'assemblea liturgica durante il manifestarsi dei misteri di Cristo lungo tutto l'anno liturgico. Non è secondaria la dimensione dell'anno liturgico anche nel canto. E lo si può vedere, ad esempio, dalla concentrazione di tipologie melodiche in determinati tempi liturgici, appunto. Un esempio viene fornito da un modulo che ricalca una struttura di canto semplice applicata a tutta una serie di antifone per il periodo dell'Avvento. L'antifona è un brano in sé compiuto, di solito relativamente breve e semplice, molto importante nella liturgia delle ore, perché in base alla musica dell'antifona si sceglie la corrispondente tonalità della salmodia, il cosiddetto tono salmodico. Se la melodia dell'antifona è in re, in re sarà anche il canto del salmo collegato a questa stessa antifona. Ciò vale soprattutto per la liturgia delle ore, in passato questo principio si applicava anche nelle due antifone processionali che interessano la celebrazione eucaristica, cioè l'antifona dell'introito e l'antifona della comunione. Per avere un'idea di come si muovono queste antifone che si ricollegano a un unico modello tipo melodico, vogliamo ascoltare tre brani appunto dell'Avvento, sono melodie in Mi. Ascoltiamo Ex Egipto Vocavi Filium Meum, Sion Noli Timere e la terza antifona è Querite Dominum. Ex Egipto Vocavi Filium Meum, Sion Noli Timere e la terza antifone che si muovono queste antifone che si muovono queste antifone che si muovono queste antifone. Ascoltiamo Exegipto Vocavi Filium Meum, Sion Noli Timere e la terza antifone. Come avete ascoltato queste tre antifone e decine di altre sono scritte sullo stesso modulo melodico. Sono, dicevo, antifone in Mi che hanno una particolarità. Nei codici non sono scritte in Mi, ma sono scritte in La. Cioè, invece di scrivere Mi, Re, Mi, Sol, Sol, La, La, Viene scritto La, Sol, La, Do, Do, Re, Re. Questa scrittura particolare non deve ingannarci. Le melodie sono realmente in Mi, ma sono state scritte, trasportate, come se fossero altre note, perché queste melodie presentano una peculiarità che non era ammessa a livello teorico. Nella teoria gregoriana c'era un'unica nota nella scala che poteva subire alterazioni, ed era il sì. Mentre nella musica colta europea siamo abituati a vedere tanti bemolli e tanti diesis, nel canto gregoriano l'unica alterazione che si può incontrare, e non sempre scritta, si cantava anche se non era scritta, l'unica alterazione è il bemolle relativo al sì. Cioè il sì si può abbassare di mezzo tono. Nel caso in cui eccezionalmente delle melodie hanno una nota variabile, non può essere scritta perché è fuori dalla concezione notazionale questa nota variabile, perché solo il sì può ammettere un'alterazione. Allora la nota variabile viene fatta coincidere con il sì. Le melodie in mi scritta là rivelano quindi che in questi canti variabile è il fa. In queste melodie che voi avete ascoltato ci sono sia il fa diesis sia il fa naturale. Ma per il semplice fatto che non era concettualmente possibile pensare, scrivere un fa naturale, un fa diesis, era escluso il fa diesis, quindi tutte queste melodie sono state scritte al là. Dicevo che alla scrittura musicale dell'antifona corrisponde il canto del salmo corrispondente, perché quasi tutti i salmi nella liturgia delle ore prevedono un'antifona. E l'antifona non ha soltanto la funzione di guida musicale, ma l'antifona diventa la chiave di lettura che permette di attualizzare e rileggere in chiave cristologica tutti i salmi. È interessantissimo ad esempio scorrere i formulari, le liturgie dei santi, dove voi avete, per esempio nell'ufficio delle letture o nei vespri, dei salmi caratteristici che si ripetono. Per esempio abbiamo il salmo numero uno, Beatus Buir. Ecco, chi è la persona beata? Come realizzare la beatitudine del santo? Le antifone ci aprono molteplici possibilità di lettura, perché presentandoci i santi nelle loro qualità intrinseche e peculiari, ci fanno vedere come la parola di Dio può essere declinata in infinite modalità. Non solo, quindi, l'antifona ci aiuta a rileggere e a pregare un salmo nell'ottica di un'esperienza cristiana vissuta, ma apre a ciascuno di noi degli spiragli per suggerirci, almeno in parte, dei tratti dell'itinerario di fede che ciascuno è chiamato a vivere nella liturgia e, in base alla liturgia, nella vita di ogni giorno. La caratteristica del canto dei salmi è quella di essere scritta con moduli molto semplici, dato che le musiche gregoriane sono composte rispettando otto strutture scalari, quelle che noi chiamiamo le scale maggiori e minori della musica accolta occidentale, hanno una corrispondenza in otto scale diverse praticate nel Medioevo. A ognuna di queste scale corrisponde anche una struttura salmodica. Il tono salmodico più comune e anche più conosciuto e praticato è quello di ottavo modo, chiamato anche modo di sol plagale, quindi la struttura fondamentale ha come tonica, nota di fondamento il sol e questa struttura salmodica particolare viene espressa nei termini seguenti. L'unità melodica per il canto dei salmi è costituita dall'intero versetto salmico. E se voi prendete un libro liturgico vedrete che all'incirca a metà di ogni versetto c'è un asterisco. L'asterisco distingue quelli che si chiamano i due emistichi, la prima parte e la seconda sezione del Salmo stesso. Nel caso dell'ottavo modo, cioè della salmodia in sol plagale, l'andamento melodico è il seguente. Sol, la, do, 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 do. E questo do rimane la corda di recita su cui si canta praticamente il salmo. Questa corda di recita si chiama tenore o tuba ed è l'elemento elastico che permette di applicare una struttura del tono salmodico a testi salmici di diversa lunghezza. Se le sillabe sono tante, si moltiplicheranno i do del tenore tuba corda di recita. Se le sillabe sono poche, si ridurrà questa sezione. La salmodia prevede un'intonazione, nel caso sol, la, do. E alla fine del primo emistichio abbiamo la cadenza mediana, una interruzione che viene costruita partendo dall'ultimo accento. Sull'ultimo accento della parola la voce si eleva al re. Sol, la, do, 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 re, do. Per esempio, conserva me, domine, quonia, m'intespera, vi. Ho enfatizzato un po' per far sentire la sillaba accentata. Ecco, questa è l'esecuzione di un primo emistichio. Poi segue il secondo emistichio. Il secondo emistichio riprende la corda di recita. Do, 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 do. E tutti i stoni salmodici presentano la medesima struttura melodica sino al compimento della corda di recita nel secondo emistichio. Nel caso, Sol, la, do, 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 do. Quello che cambia e presenta molteplici soluzioni è la cadenza finale. Quando si abbandona la corda di recita e si conclude il versetto. Nel caso del tono salmodico ottavo solplagale la cadenza finale si innesta sulla una sillaba, sull'ultima sillaba accentata, ma si prevedono anche due sillabe di preparazione. quindi abbiamo la corda di recita Due sillabe di preparazione. Ultimo accento. Ritorno sull'osservazione appena fatta. La formula salmodica è identica sino alla conclusione della corda di recita prima della cadenza finale. Molteplici sono le cadenze finali. Ad esempio noi abbiamo do do si do la sol oppure do do la sol. Ado, re, do. Perché questa molteplicità di cadenze finali? Qui bisogna fare un'osservazione storica. Oggi noi cantiamo l'antifona prima di un salmo e a conclusione di un salmo o di un gruppo di salmi. Quindi praticamente cantiamo l'antifona due volte. Ma noi sappiamo che nel Medioevo c'erano situazioni liturgiche in cui l'antifona veniva ripetuta dopo ogni singolo versetto del salmo o di un cantico evangelico, per esempio il Magnificat, cantico evangelico che pure si canta sul tono salmodico. Quando l'antifona viene ripetuta più volte è logico pensare che il cantore cerchi di facilitare l'innesto del versetto salmico dopo l'antifona. E quindi, partendo dalla nota iniziale dell'antifona, si sceglie la nota finale della formula salmodica. In modo che ci sia corrispondenza, che la fusione sia facilitata, che non bisogna pensare troppo. Perché? Il canto della salmodia non è fatta per porre degli ostacoli alla preghiera, complicando il calcolo della posizione degli accenti, di quando inserire una formula di cadenza e via dicendo. Il canto della salmodia deve facilitare la preghiera, deve portarci in un clima di attenzione che si rivolga prevalentemente e finisca per divenire, unico fine della preghiera, l'attenzione alla parola del salmo. Per questo motivo, ad esempio, nelle strutture liturgiche più antiche c'erano antifone della stessa melodia o dello stesso modo, della stessa scala, che si ripetevano continuamente, il che dà l'impressione di una monotonia che può favorire, non dico la disgressione, il pensare ad altro, può favorire la sonnolenza, il non pensare più a nulla, il lasciarsi cullare da questa ninna-nanna della salmodia. Ma se uno è vigile e cerca di stare attento alla parola, e cerca di pregare con questa parola, la formula salmodica più facile è la soluzione ottimale per poter vivere in modo adeguato la liturgia delle ore. A proposito di salmodia, però, bisogna aggiungere un particolare. Voi avete ascoltato un versetto di esemplificazione in cui la corda di recita tra la prima parte e la seconda parte del versetto è identica. La salmodia semplice della liturgia delle ore prevede un unico tenore per il primo e il secondo mistichio. fa eccezione, nella salmodia semplice, un tono particolare, chiamato appunto tonus peregrinus. Questo tono peregrino presenta due tenori, due corde di recite. Nel primo è mistichio il la, nel secondo il sol. Ma quello che è eccezione nella salmodia semplice diventa la pratica comune in una salmodia del tutto particolare che interessa i responsori della liturgia delle ore. Parleremo dei responsori, adesso mi fermo soltanto ai versi dei responsori e vi faccio l'esempio di una salmodia di verso di responsorio sempre applicata all'ottavo modo, cioè in modo di sol. Canto prima di nuovo la formula semplice e poi subito segue la formula fiorita, particolarissima, di questi versetti di responsorio. Conserva me, Domine, conia mente speravi Dixi, Domino Deus meus estu Conserva me, Domine, conia mente speravi Conserva me, Domine, conia mente speravi Conserva me, Domine, conia mente speravi Qui avete sentito, nel primo è mistichio, la corda di recite era il Do che è la dominante, la nota dominante nella struttura melodica, nell'ottavo modo, nel sol plagale e nel secondo mistichio invece la corda di recite era la stessa tonica, sol Oltre alle antifone relativamente brevi che accompagnano i salmi e i cantici noi troviamo nel repertorio delle antifone che potremmo chiamare antifone narrative Sono dei brani molto lunghi, talora complessi, che hanno delle storie avventurose come un canto che viene diffuso anche nel mondo latino a partire da Gerusalemme e Costantinopoli perché è un canto il cui testo almeno è stato scritto dal patriarca di Gerusalemme Sofronio che è morto nel 638 Questo canto è diffuso anche in alcuni codici e noi eseguiremo una versione tramandata dal frammento di un messale dell'Italia centrale dell'undicesimo secolo Ascoltiamo quindi questa antifona o quando in cruce tramandata anche in codici dell'Italia centrale di Ravenna che era un caposaldo del mondo bizantino in Italia antifona che si trova in lingua greca e in versioni melodiche simili anche nel repertorio della liturgia bizantina o quando in cruce del patriarca Sofronio di Gerusalemme o quando in cruce confixeront iniqui dominum glorie a vita Deus quid vobis molestus su autin quo iratus su antem equis vos libera vitex angustis e nunquid mici reditis ma la provonis pro columna inis in cruce me confiditis pro nuve sepulchrum mici podistis pro mamna fel me potatis proteracquam acetum mici in populum povrigitis ecuro gabogentes potissime glorificent una compatrii e con santo spirito amen un'altra antifona narrativa non ha origine bizantina o gerosolimitana probabilmente proviene dall'antica liturgia gallicana ed è un'antifona molto lunga quindi anche la lunghezza del brano la distingue delle antifone salmiche molto lunga un poco complessa sotto il profilo melodico e l'attribuzione all'ambito gallicano viene anche suggerito in parte confermato dal fatto che è una melodia in re è una melodia nel cosiddetto re plagale nella parte bassa della fascia melodica del re si raggiunge il la grave ed è un canto alla beata infanzia al bimbo Gesù a ciò che comporta il mistero della nascita e l'accoglienza del bimbo nel cuore dei credenti infatti dopo aver visto degli squarci della redenzione operata da Cristo questa antifona si conclude con l'acclamazione alleluia lodate Dio l'acclamazione Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un cordiale risentirci da parte di Giacomo Baroffio.